Col passare delle ore perde corpo l'ipotesi avanzata in un primo momento dagli inquirenti che con il mucchietto di ossa frammentata e ritrovate da una turista sotto la sabbia in un tratto di spiaggia libera a Gallipoli possano appartenere a una delle tante vittime di Lupara Bianca scomparse in Salento. La ricomposizione parziale dello scheletro in queste ore ha portato gli agenti del commissariato di Gallipoli a scartare l'ipotesi che quei resti possano appartenere a Roberta Martucci, la ragazza scomparsa da Torre San Giovanni nell'agosto del 1999, né tantomeno appartenere al pescatore gallipolino Luigi Gatto, sparito nel giugno del 1995. Le loro altezze infatti non corrisponderebbero a quella che il medico legale Alberto Tortorella avrebbe fissato indicativamente intorno al metro e quaranta. Troppo anche per pensare a Mauro Romano, scomparso a Racale all'età di sei anni. In queste ore gli investigatori sono impegnati ad andare a ritroso nell'elenco delle persone scomparse, non escludendo la possibilità che si tratti dei resti di qualche vittima di uno dei tanti viaggi dell'immigrazione, forse un ragazzino a cui qualcuno ha voluto dare una degna sepoltura. Età e sesso, per ora avvolti nel mistero, si potranno conoscere forse solo dagli accertamenti che saranno effettuati sui denti ritrovati, un molare e tre incisivi e un canino, questi ultimi rinvenuti nell'ultimo sopralluogo. E' sull'esito del loro esame che si possano le flebili speranze di avere qualche indicazione per permettere alle indagini di andare avanti e di far luce sul mistero.